Lo scarico per Dobric, tripla sbagliata, si lotta a rimbalzo, la prende Cordinier che darei butto fuori, Bellinelli, sistema in piedi, spara, segna e c'è anche il fallo di Collinstein. Non riesco neanche a prendere i palloni vaganti e adesso... Riparte la Virtus con Paiola, blocco di Dunston, Bellinelli, piede a posto, tripla per aria e a bersaglio. Fanno 10 per Marco Bellinelli. Sicuramente Jordan Michi che ha vinto spesso l'accoppiamento diretto con Willi Collinstein. Ancora più efficace Marco Bellinelli, piedi a posto e tripla a bersaglio. Fanno 15 per Varese, questa è la terza su 7 tentativi per Moretti. Meno 14 per Giobetis, ancora Marco Bellinelli, questa volta c'è anche il fallo subito da Olivier Allen. Ha capito perfettamente che quella è l'unica strada che può fare il difensore. Grazie. Grazie.